Ecco qua, oggi ci facciamo una bella macedonia, pesca, albicocche, mirtilli, un cuoccio di zucchero e del limone, bella fresca. E adesso il dolce si infonda, cosa ci mettiamo per renderla ancora più buona? Un po' di panna fresca appena montata. Ecco qua, una bella panna fresca. Una coppa con la panna. Buonissimo, bello fresco.